Avrebbe ottenuto tangenti in cambio di assegnazioni pilotate a favore di aziende che si occupano dell'accoglienza di migranti. Una spigliatezza disarmante nonostante il ruolo istituzionale rivestito. Domenico Lucano finito oggi ai domiciliari. Il campione dell'accoglienza Mimmo Lucano, un eroe. Un sindaco che è stato lasciato solo. Quello che si fregava i soldi per gli immigranti. Può tornare in libertà ma con divieto di dimora nel suo comune. Una cosa aberrante e veramente fascista. Evitiamo di enfatizzare dei modelli quando poi finiscono addirittura arrestati. Una persona che merita il noda. Quello che abbiamo fatto non segue un'indicazione precisa rispetto alle linee guida. Sei mesi e poi le deve andare. Sono rimasto uno che ha inseguito un sogno di umanità, di democrazia. Quello che mi dirò alla procura è quello che vi dico qua. Per me siete tutti giudici. L'unico politico in Sirio, in Italia. Dove hai dormito lei la prima sera? Nella macchina. Dove? Nella mia macchina. Andiamo a venire fuori per tutte le persone che ancora credono ad un ideale. Andiamo a venire fuori per tutte le persone che ancora credono ad un ideale. Questo non è compatibile per nulla con una dimensione umana delle persone.